Ciao ragazzi, sono Jack. Oggi voglio affrontare un argomento importante, per quello che riguarda la protezione del vostro computer, ovvero l'antivirus. L'antivirus in questione si chiama AVG 2013, che sarebbe quello in alto a sinistra del mio desktop. Inizio col dirvi che è un antivirus molto efficace, e se non lo avete ancora provato, vi consiglio di farlo. Vi informo subito che nel video andremo a regolare le impostazioni di AVG, in base a quella che è stata la mia esperienza con questo antivirus. Ora andiamo a vedere come si presenta l'interfaccia utente di AVG. Questa è l'interfaccia di AVG. Ora andremo ad analizzare le varie funzioni che lo compongono. Iniziamo dalla scheda computer, ovvero l'antivirus. Infatti in basso ci spiega brevemente a cosa serve l'antivirus e dice. Antivirus, protegge il computer da virus, spyware, war metrolian. Clicchiamo su computer, attiviamo l'antivirus, e in seguito cliccheremo su impostazioni. Qui, andremo ad abilitare tutto, tranne la scansione alla chiusura. Clicchiamo su applica, e poi su ok. Ora, ci spostiamo a destra su anti-road kit, andiamo su impostazioni, e attiviamo la scansione applicazioni, e la scansione driver, infine attiviamo la scansione completa di road kit. Clicchiamo su applica e poi su ok. Adesso andiamo a vedere la scheda web, dove in basso ci dice la sua funzione. Web, protegge il pc da attacchi basati sul web durante la navigazione o le ricerche in internet. Verifica inoltre la presenza di eventuali minacce nel traffico di rete. Quindi, attiviamo la funzione link scanner. Andiamo nelle impostazioni e attiviamo le due funzioni che vi sto mostrando. Clicchiamo su applica e poi su ok. Proseguiamo la configurazione di AVG, andando su online shield. Abilitiamo il componente e andiamo ancora una volta, nelle impostazioni. Attiviamo online shield e AVG accelerator. Quest'ultimo aumenterà la velocità di download e dei caricamenti di video su YouTube. Su modalità modifica minacce, posso dirvi che è meglio selezionare la prima. Clicchiamo su applica e su ok. Ora configuriamo la scheda dati personali. Sotto ci dice che identity protection offre la protezione protiva del furto di identità e la protezione della privacy. Abilitiamo il componente e andiamo su impostazioni. Clicchiamo su attiva identity protection e impostiamo la modalità chiedi sempre. Clicchiamo su applica e su ok. Ora ci spostiamo sull'email che dice, protezione dei messaggi e mail sottopone a scansione le email in entrata e in uscita ed effettua il filtraggio dello spam. Abilitiamo la scansione dei messaggi in entrata e in uscita. Andiamo sulle impostazioni. Iniziamo dalla scansione e mail. Abilitiamo nuovamente la scansione delle email in entrata e in uscita. Su proprietà scansione attiviamo i seguenti componenti. Utilizza analisi euristica, segnala programmi potenzialmente indesiderati e minacce spyware, scansione all'interno degli archivi, e infine attiviamo la scansione completa. Clicchiamo su applica e su ok. Abilitiamo l'antispam. Adesso andiamo su firewall. In basso ci dice, firewall applica un criterio di controllo dell'accesso tra il computer e la rete bloccante. Adesso andiamo su modalità firewall e clicchiamo su modifica. Su generale, abilitiamo la modalità automatica e come al solito, clicchiamo su applica e su ok. Ora passiamo alla configurazione della scansione. Clicchiamo su questo quadratino in modo da aprire le impostazioni. Sotto a scansione intero computer, cliccheremo nuovamente impostazioni. Qui dobbiamo abilitare tutto. Su regola la velocità di completamento della scansione, andremo a spostare il bastoncino a sinistra, cioè su sensibile all'utente. Infine cliccheremo su salva impostazioni correnti. Dopo aver salvato le impostazioni potete anche avviare una scansione, cliccando su avvia scansione. Sul rettangolo aggiornata esso vi consentirà di aggiornare l'antivirus, ma in sostanza non serve aggiornare manualmente l'antivirus perché quest'ultimo si aggiornarà automaticamente. Questo è tutto ciò che AVG 2013 ha da offrirci. Io mi trovo molto bene con AVG, in quanto all'inizio avevo un altro antivirus che faceva letteralmente cacare, e mettendoli a confronto, AVG supera di gran lunga il precedente antivirus che avevo fino a 8 mesi fa. Termina così questo tutorial, sono sicuro di essere stato chiarissimo e di avervi spiegato passo per passo come configurare e usare AVG 2013. Per qualsiasi domanda scrivete nei commenti. Ci vediamo in un altro tutorial. Ciao a tutti e alla prossima!